Sì, buongiorno, siamo a Peraga di Vigonza, zona nord-est di Padua, qui il maltempo alla Max Flora ha fatto danni pesantissimi. Come vedete dalle immagini stanno già lavorando per ripristinare, ma qui praticamente con la prima ondata di maltempo è praticamente esplosa la serra, i vetri sono accaduti ovunque, è rimasto senza copertura le sere, parliamo di 2.000 metri quadri, complessivamente 3.500 quelli interessati e distrutto le piante che c'erano all'interno e quelle che comunque si sono salvate con i vetri conficcati dovranno essere macinate e distrutte, quindi non vendibili. La proprietaria, la signora Anna con il figlio stanno lavorando, ha detto una situazione veramente pesante, per loro la terza volta che vengono colpiti da appunto grandinate, ma questo è stato veramente eccezionale che li ha lasciati praticamente a terra. Si parla di danni quasi se non superiori al milione di euro perché al di là dei vetri e delle piante in che tutto il sistema di irrigazione, di riscaldamento della serra è stato distrutto e anche la stessa abitazione dei proprietari ha subito danni, ma ha detto la signora l'importante era correre a salvarsi perché la grande che cadeva era talmente grande che era impossibile fare qualsiasi cosa. È un esempio di questa situazione, di quello che è successo con la grandinate, con le quattro ondate che ci sono state, il caso della Maxi Flora, questa serra appunto di Florio Vivaista, ma sono molte le serre che hanno subito danni simili per entità e per estensione. Poco più lontano a Cadoneghe, poi invece solo ieri sera è stata ripristinata la corrente elettrica per 2.000 residenti e attività economiche e produttive. Siamo nella zona di quartiere Bragni appunto di Cadoneghe, quindi continua in questi giorni che è tornato il sole, continua il lavoro per cercare di rimettere in ordine e ripristinare le attività. Ma il tempo che poi anche ieri sera ha colpito il rodigino, gli interventi dei vigili del fuoco, un altro temporale che si è abbattuto. Ma danni non solo appunto Florio Vivaismo, ma anche tutte le auto. E allora vediamo il servizio, siamo stati in una carrozzeria per capire un po' come funziona e quali sono stati i danni. Vediamo il servizio e poi la linea torna allo studio.